Una legge che vuole mettere a posto i problemi delle agenzie di intermediazione che fitta a quartieri e ciasi per i ghiacci. La scommenzativa di D. Thomas è la prima proponente di questa kindeseisima legislatura portata ad alta dal NEF Consello Provinziale. Alla firmare il consigliere Ladin con l'obiettivo di far fuori le questioni che troppi a Sansares a Ea con l'agenzia delle entrate. Una legge del sistema che considera i professionisti o le firme di Sansares che chi che si mette a conto il FIT. In vada anni che noi ha già chiesto il valparone di Ciasa. A chi che FIT ha vado una commissione, benché l'agenzia delle entrate al do della norma la calcola che il FIT sia vada anni e ince per i Sansares. Con questa disegna delle leggi si mette mano al problema di una categoria, che così per il da venire ha strumenti normativi per poter portare tanto con sicurezza all'uriero e soprattutto far fuori le questioni venute fuori fino adesso. Questa legge è stata considerata in commissione e mi dice esperti che entro questa stella potrebbe essere oggi rendere, tecnicamente già che le demone articoli di legge potrebbe essere presentate schermendamente alla finanziaria se si trova il consenso di questi capigruppo. Se fosse così, la forza più celere, la posizione di gira più bella è in d'ora e quindi ora sta in sud e quindi è la strada più segura e più di zona e quella che garantisce di gire in d'ora più in presa. La legge, seduta dal 2 programmi, la connessa a venire approvata al più tardi che si sta. Una legge che ha in c'è l'obiettivo di far vedere che il consigliere Aladin non sia un guardiano delle mendranze ma una parte che si cruzia deduce i temi politici e economici della provincia. Mi studia il farlo e che è diventato il punto di essere legge, l'iniziativa consigliare di questa legislatura perché voglio dare il senso di una presenza che si cruza dai problemi non dalle mendranze ma dall'economia complessiva della provincia, della nostra zona turistica e dopo do in c'è per far vedere che tecnicamente il Aladin si vende da l'onso ma non le proprie ultime strue, che vale mingo nel senso in c'è che volesse dire di presentazione, dell'attività, che il Kissing Game volesse che la me caratterizza.